Oggi voglio parlare di un'auto, non di un'auto qualsiasi, ma della 55 Q6, l'auto che nel 1955 e nel 1996 conquistò la DTM due volte. È un qualcosa di meraviglioso. Quest'auto veniva nominata l'Ammazza Tedesche perché le batteva su ogni angolo della pista. Era invincibile. Alfa Romeo 155 V6, un'auto di grande velocità e bellezza. Le tue linee eleganti e la tua posizione aggressiva. Uno spettacolo che non può essere negato. Il tuo motore ruggisce mentre corri sulla pista, lasciando tutti gli altri sulla tua scia. Un vero campione. Un vero guerriero. Sei l'orgoglio dell'Italia. La tua potenza e precisione, ineguagliate da qualsiasi altro. Renditi una forza da non sottovalutare. Nessuna sfida troppo grande. Nessun ostacolo troppo alto. Li conquisti tutti con grazia e potenza. Alfa Romeo 155 V6. Un'auto di leggenda e tradizione. Aver sempre un posto speciale nel cuore di tutti coloro che ti amano. Un'auto di funcione. Di una della opinione. Grazie a tutti Grazie a tutti